Un nuovo buongiorno da Subasio, iniziamo a fare gli auguri a tutti quelli nati oggi. Aurora di Assisi oggi compie 7 anni ed è festeggiata dalla mamma Sonia, dal papà Michele e anche dalla sorella che si chiama Sofia. Oggi mia nipote Chloe compie 20 mesi, un bacio grandissimo da zia Maria da Roma, auguri a Vittoria, un gioiello per il suo papà. Gli auguri al mio piccolino che oggi compie 6 anni, augurone Nicolas da mamma e papà e anche la sorellina che si chiama Giulia. I miei migliori auguri a mia moglie Katia che oggi compie gli anni, ti amo da impazzire, così ci scrive Ado da Caserta. Auguri al nostro cricchetto, a zio Massi, zio Robi, Michi e Alex. Auguri alla mia mamma che oggi compie 45 anni, ti voglio tanto bene, così scrive Chiara. Auguri Chiara, vediamo se aggiungete qualcos'altro, no, semplicemente auguri Chiara, così un po' buttateli nel lettere. Poi gli auguri a Lara, oggi festeggia il suo compleanno e anche il suo anniversario di matrimonio con Marco, un abbraccio da Marianna e Franco. Auguri a mio fratello Alessio da Simone di Canepina, buon compleanno ai miei nipoti Simone Stella di Ciampino dalla zia Maria Grazia che il sole accenda le vostre giornate. Oggi un augurio speciale, va alla bimba più bella del mondo, auguri Noemi per i tuoi 5 anni da babbo e tata. Auguri al mio cuore Adriano, buon compleanno amore mio, ti amo più di ieri e meno di domani, tu a Francesca. Oggi il nostro piccolo Lorenzo compie due anni, tantissimi auguri da nonna Nadia, nonno Massimiliano e addirittura dalle bisnonne Rita e Anna. Gli auguri alla mia super sorellona Fabiana per il suo compleanno dalla sorellina Chiara. Gli auguri al mio fantastico babbo Roberto che oggi compie 50 anni da Caterina. Auguri a mia mamma e mio zio che compiono rispettivamente 52 e 54 anni, così scrive Irene da Sansepolcro. Auguri a Evaristo, così è un altro messaggio di questi buttanti lì nel lettere. Auguri a mamma Brunella da parte di Fabio, auguri a Stefania dai figli Lucrezia, Riccardo e anche il suo uomo che si chiama Salvatore. Buon compleanno a mio figlio Carlo Maria che oggi compie 21 anni con immenso amore, Paola. Un augurio di felice compleanno per Denise, gli auguri arrivano da Luigi, Carmela, Nicola e Ari. Auguri a Annabella per il suo compleanno da parte di Annalisa. Auguri alla nostra cara zia Paola per il suo compleanno dai nipotini Vittoria e Francesco. Ti vogliamo bene. Auguri al mio piccolo scatenato Pillù, soffia su queste due candeline con l'augurio che la vita abbia in serbo per te e ogni cosa che tu possa desiderare. Gli auguri arrivano da zia BriBri e zio Chico. Tutti questi auguri per Pillù. Poi mia figlia Nicola oggi compie 14 anni, gli auguri, ti voglio bene cucciola. Auguri a me che divento maggiorene per la quarta volta perché sarebbe 18 per 4 uguale 72 Gilberto da Pesaro che è riuscito a creare un'alchimia fantastica per sentirsi ancora una volta maggiorene. Poi ci ha scritto ieri addirittura a mezzanotte, infatti gli auguri compio 49 anni, sto lavorando, ando da Roma a mezzanotte e stare lavorando. Adesso spero che tu stia dormendo insomma. Auguri a Silvia da mamma Anna e Nadia, auguri a papà Fabio da parte di Alice, auguri a mio fratello Romolo da parte di Roberto e poi auguri alla mia cara Antonella da parte di Ciro. Ok, poi ancora e non è mica finita qua, sono Silvia, vorrei fare gli auguri al mio ragazzo Simone che oggi compie 29 anni, cucciolo, sei la mia vita, ti amo tanto. Auguri alla nostra mamma Patrizia da Stefano, Elisa e Pietro di Anguillara Sabazia. Sono solo 56 ma io aspetto quelli da vivere insieme, auguri Bruno da Caterina. A Alessandro faccio tanti auguri al mio cugino Felice e poi alla nostra principessa Federica e sono 15, mamma Stefano e Gabri. Possiamo passare alle persone famose che oggi conosciamo.